È un messaggio forte da parte di tutto il mondo del volontariato italiano che oggi più che mai vuole far ricucire l'Italia. Ricucire l'Italia significa mettere insieme le persone di buona volontà che gratuitamente lavorano per dare un messaggio agli altri di forza, di solidarietà, di attenzione, di aiuto. Senza il valore del volontariato non c'è futuro. Il volontariato significa valori, principi e non colori di appartenenza. E credo che questo sia il grande messaggio che danno anche alla politica. La politica si deve mettere insieme per il bene dell'Italia e dei nostri cittadini.